Un quarto posto nella regular season pesantissimo. Il doppio pareggio con l'Aprilia è valso alla Chieti la qualificazione alla finalissima dei play-off, proprio per il miglior piazzamento in campionato. Ed ora la storia si ripete con la Paganese. I campani hanno raddrizzato una stagione che si era messa male grazie ad un poderoso scatto nelle ultime giornate. Ribaltato il pronostico con la Vigor Lamezia, superata di misura sia all'andata sia nel ritorno in terra di Calabria con i Lametini che hanno sbagliato due calci di rigore, colpito un legno e fallito un numero impressionante di occasioni da rete. Tra i più positivi dei campani nel Retour Match il rientrante difensore Enrico Pepe. Sono contento di aver giocato perché dopo aver giocato tante partite in campionato le partite più belle volevo giocare diciamo però i miei compagni anche all'andata hanno fatto una grandissima partita. l'importante è aver raggiunto questa finale e speriamo di vincerla. Dobbiamo restare umili e sereni come abbiamo fatto contro Lamezia. Dobbiamo fare una grande partita, dobbiamo dare il cuore, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Poi i miei compagni, io, daremo tutto come abbiamo fatto fino ad ora. Mister Grassadonia per la prima con il Tieti è costretto ad inventare il centrocampo per via delle squalifiche di Nigro e di Martino. Il tecnico azzurro stellato conta di recuperare Tricari. Vincere è sempre bello quindi fa sempre piacere vincere qualcosa e noi più giovani che queste sono le partite più importanti della nostra carriera possiamo dire che comunque daremo tutto. Io voglio raggiungere questo obiettivo con questo gruppo perché è fantastico e anche per il mister speriamo di fare bene. E dopo il mantovano Borriello ecco un altro figlio d'arte chiamato a dirigere la finale di Pagani. Toccherà il piemontese Pairetto. Assicurato il tutto esaurito al Marcello Torre, almeno 500 i tifosi in partenza da Chieti.